Oh, oh! Oddio mio! Sentite questa? E qui è successa una disgrazia! È saltata la fogna qui! Attenzione, qui c'è un cavallo morto da una vicina d'anni sepolto qua su...? Beh, in effetti c'è una poca... Eccola qui la causa che è buccia! Ah, è uno scarpone! No! Non buccare!